bene con questa nuova serie di video parleremo delle fondamenta della vita del discepolo e vorrei partire però dalla base di una persona che è nato di nuovo per essere discepoli e fare nuovi discepoli faremo una serie di video che saranno brevi ma che poi hanno a che fare almeno inizialmente di avere un rapporto personale o meglio direi interpersonale con dio allora la prima cosa da capire prima di essere un discepolo per fare discepoli essere riconosciuti dal signore il signore dice molti in quel giorno mi diranno signore signore ma io non vi ho mai conosciuti di essere riconosciuti dal signore non significa fare solo le cose che lui ci dice ma significa avere un rapporto interpersonale e intimo con dio il che significa che bisogna avere una relazione personale con dio bisogna instaurare un rapporto da padre in figlio da ciò si deduce che so che quando dio mi parla quindi riconosco la sua voce dandogli ascolto parimenti so quali sono i parametri quando io chiedo a dio e lui mi esaudisce inoltre è fondamentale recepire che quando riconosco la sua volontà in determinate situazioni ubidisco perché sono stato guidato dalla parola scritta che precedentemente ho letto studiato e meditato e che lo spirito santo mi ha ricordato e insegnato ecco la base per essere un discepolo di gesù cristo è questa è vero che devo fare obbedire quello che dio mi dice ma non posso ubidire soltanto aprendo la parola vedo quello che c'è scritto vado e vado a fare questo non è un rapporto con dio bisogna imparare ad avere una comunione interpersonale con il signore dedicare del tempo giornaliero un ritaglio personale intimo con il signore come dice matteo al capitolo 6 verso 6 imparare a recepire quindi a a conoscere quando dio mi parla e poi in quel francente io quando ho udito ascolto e metto in pratica ecco questo è la base per poter essere un discepolo per fare discepoli ci vediamo al prossimo video benedizioni ciao